Milan-Monza, ieri? Milan-Monza è un campionato che mi sta assolutamente... Il Monza ha perso cinque partite con cinque grandi, ha fino ad oggi vinto pareggiata con le altre, quindi il punto è perfetto, abbiamo giocato una buona partita, quindi l'anno evidentemente ha individualità di un certo tipo e fa bene così. Comunque quello che piace a me del Monza è che cerca sempre di giocare, lo dico anche al nostro grande allenatore, quando attacchiamo, attacchiamo il 5-6, quindi abbiamo avuto qualche occasione, qui alla risolta con giocate di grandi campioni, va bene. Crede che arriverà qualche colpo dal mercato? No, ma che colpi, ma che colpi ragazzi, stiamo calmi con il mercato, poi il mercato di gennaio è un mercato asfittico. Un'altra grande prestazione di Di Gregorio, direttore. Di Gregorio è un fenomeno. Gliel'hanno già chiesto in tanti? E comunque anche per Di Gregorio, come per Colfani, mai parlato con nessuna squadra, mai fatto con... E vieni qui, ci vuoi fare la foto. Quindi mai parlato con nessuno, rapida che sono in ritardo. Ha ragione. La milanese ho già fatto troppo tempo. Va bene, figurati. Metà milanese. Che storia. Per mio fratello che c'è. Va bene, per chi vuoi basta che fai in fretta. Vai, vai. Gira, girare questo. Dai, però. E allora. Allora. Möves. Vai, va bene. Dai, va bene. Non sono venuta io? Beh, le donne sono... Prendi per un bacio, ce le fanno un bacio. Presto lo faccio. Tutti i fotografi? Se no ti facciamo noi i video. No, vai con la sua. Dai, c'è la sua. Gira. No. Allora. Aspetta che è ancora girata. No. Te che fai l'intervista e vai a essere più rapido. Ma aspetta perché c'è un problema... Un problema al tasto qua, eh. Fatta. Bene. Ha fatto la buona azione di buona giornata. Gagliani, quindi ne Inter, ne Juve hanno chiamato... No, no, scusi, non è un supermercato. Mai parlato con nessuni compagni, mai parlato con nessuno. In ogni caso non partirebbero, ma non è... Siccome ogni giorno, leggo, è quello lì, quello lì è prenotato, quell'altro è sprenotato, quell'altro è cosa. Nessuno è prenotato, nessuno ho parlato, sono giocatori del Monza, Monza restano. Grazie. Grazie.